Storia virale numero 69. La storia di oggi racconta la nascita di un personaggio. Ve la farò vedere in diretta. Non so ancora come si chiama. Prima ho bisogno di vederlo e poi vi darò un nome. Seguitemi. La prima cosa che voglio fare del mio personaggio sono gli occhi. Due occhi. Per fare gli occhi mi servo della pupilla, di due pupille e poi anche delle ciglia perché voglio che il mio personaggio sia un personaggio molto molto evidente. Ho fatto due occhi? Sì. Bene. Posso arricchirli un po' perché faccio il sott'occhio dove ci sono delle piccole 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 ciglia. Molto piccole 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 piccole. Benissimo. Adesso mi piacerebbe molto fare il naso. Allora non ho dubbi. Parto da questa parte e il mio personaggio ha un naso così. Bello, eh? Sembra una pentola, una patata. Oh, che faccia che salta fuori. L'espressione degli occhi è un'espressione un po' arrabbiata. Allora facciamo così che arricchiamo gli occhi di particolari. Bene. Adesso facciamo la bocca. La bocca si sa che è rossa. E quanto sarà lunga la bocca? Così? Sì, no. Oppure così. Vediamo. Facciamola così. Una bocca lunghissima. È tutta rossa. Sì. Penso di farla tutta rossa. In modo che il labbro di sopra si confonda con quello di sotto. Ecco qua. Molto divertente. Il mio personaggio ha perlomeno una sembianza. Adesso voglio che questo mio personaggio del quale ho disegnato occhi, naso e bocca abbia una forma. Per esempio faccio una forma a pera. Capovolta. Sono sicuro che adesso il mio personaggio vorrebbe sentire quello che io sto dicendo. E allora devo fornirlo di due orecchie grandissime. Ecco qua. Buongiorno. Oh, santo cielo, mi sono dimenticato di fare i capelli. È un personaggio completamente calvo? No, non è possibile. Allora facciamoli una bella riga. Così. E facciamo i capelli per bene. Oh, ecco qua. Non so che età può avere questo personaggio. Adesso mi servirà andare avanti. Ho fatto la testa di questo signore. Ma non è necessario fare anche il corpo. Che corpo avrà questo signore? Beh, la testa è grossa e il corpo sarà grosso. Eccolo qua. Tac. Oh, bellissimo. Corpo ruto. Ah, gee, e ne servono sempre due gambe anche per farlo stare in piedi con dei piedi lunghi, lunghissimi. Perché così sono sicuro che resta in piedi. Molto bene. Siamo quasi a... Oh, cielo, dimenticavo le braccia. Naturale. Ci vogliono le braccia. Allora un braccio è fuori e un braccio è dentro. E dalle due maniche spuntano le mani. le mani. Molto bene. Sì, manca qualcosa. È nudo? Sì. Perché si vede l'ombelico. Allora bisognerà vestirlo. Per esempio, io prima di tutto gli farei una bella cravatta verde. Così. Tatatatatata. A righe magari si usano oggi. Moderne. Così. Tatatatatata. Dopodiché servirà fare anche un bel paio di pantaloni. Se ho fatto la cravatta a righe devo fare per forza anche i pantaloni a righe. Sì, un bel gessato verde. Li sta molto ma molto bene. Ecco. E sopra una camicia con un taschino verde. Con in tasca niente. Questa camicia mi pare molto ma molto bella. Però forse non è sufficiente. Sì, giusto. Bisogna fare i calzoni. I calzoni invece li faccio colorati perché così si distanziano bene dal resto del corpo. E sulle scarpe faccio un tacco verde, un altro tacco verde, una punta verde come si usava nell'America del proibizionismo. Scarpe bianche e bicolori e dei bottoni perché queste scarpe si allacciano. Ecco qua. Come si chiama questo personaggio? Lo chiamerò Oscar. Ecco il signor Oscar dalle unghie verdi. Bene, la storia virale oggi è finita. Domani vedremo a che fare con questo signor Oscar. Ciao a tutti. Arrivederci.